Andiamo a vedere le principali notizie di calciomercato di oggi 27 luglio 2024. Il Bologna mette a segno un grande colpo e chiude per Hummers del Borussia Dortmund svincolato, volo e visite mediche già prenotate. Dato le enorme difficoltà che dovrebbe portare Fofana al Milan, secondo Fabrizio Romano, il Milan ha un suo sostituto, si tratta di Manu Kone del Borussia Mönchengladbach. La Juventus che sta facendo un grande mercato è sempre protagonista, avrebbe pronta un'offerta all'Atalanta per Koppmeier da 45 milioni di euro. Il Napoli punta David Neres, ipotesi prestito con diritto di riscatto. Roma, Dovbic, ci siamo, c'è il sì del giocatore dopo le intercessioni di De Rossi. Lo tito Brinda Kasecianos non è in vendita e apre a un possibile arrivo alla Lazio di James Rodriguez. Buonaventura dopo la bellissima esperienza alla Fiorentina, lascia l'Italia e approda in Arabia Saudita, sarà un nuovo calciatore del Al-Shabaab. Il Newcastle ha offerto 25 milioni per Malik Chao, che spinge per avere il difensore rosso-nero. Il Milan ne chiede almeno 35. A 30 si può chiudere. Chao ha già trovato l'accordo con il club inglese e ha comunicato alla dirigenza del Milan che è disponibile al trasferimento. Grazie.